Musica Verona, l'Arena, il suo celebre festival d'opera. Di recente la città scaligera ha ospitato la ventesima edizione del concorso più prestigioso di musica lirica al mondo, Operalia. Una competizione unica che ha laureato generazioni di star. 600 le candidature quest'anno, i migliori 12 sono arrivati in finale. Sono loro a offrire un emozionante spettacolo a un pubblico internazionale di appassionati e addetti ai lavori. Dietro il concorso la generosità di un grande artista. Ho sempre pensato a un concorso che fosse un po' diverso, un concorso in cui fosse possibile seguire i vincitori. Non solo dar loro un premio e chi si è visto si è visto, ma poter lavorare insieme, dare concerti insieme, portarli nei teatri in cui sono impegnato. Operalia vuole essere un incoraggiamento, un aiuto nei tanti ostacoli del mestiere e un acceleratore per la loro carriera. A giudicare le stelle di domani, la creme de la creme dei teatri d'opera mondiali. Far parte della giuria è un lavoro, pur restando un piacere, perché si fanno scoperte meravigliose. Artisti sconosciuti sino ad ora, giovani cinesi, russi, sudamericani. Ho visto grandi cantanti qui, artisti che poi ho invitato, abbiamo invitato, nei nostri rispettivi teatri. È molto emozionante scoprire un artista per la prima volta. Ti dici, wow, questo sì che è un talento. E un vero talento è il soprano francese Julie Fouche, classificatasi seconda. Nomen Omen, ad affascinare più di tutti i giurati, un soprano russo, Aida. Adoro l'opera, ogni secondo della mia vita è scandita dall'opera. Desidero solo imparare ancora, nuova musica, nuove arie. Anzi, sa qual è la cosa più importante? Che il pubblico mi apprezzi. Questo è il mio più grande sogno. Che ami il mio modo di muovermi sulla scena, la mia voce, la mia anima. Tra gli uomini a sbaragliare tutti è stato un basso baritono cinese. Prima della finale volevo cantare Madamina, dal Don Giovanni, l'aria di Leporello, quella del catalogo. Ma parlandone col maestro Domingo, lui mi ha detto, se canti Madamina potrai soprattutto recitare, ma se canti Aleiko, che poi ho cantato stasera, potrai cantare di più. E stasera la mia voce è più, è come sbocciata. È un privilegio per me contribuire alla nascita di queste giovani promesse che un giorno saranno stelle dell'opera. E anche è fantastico poter dare una mano. Insieme a tutta la mia famiglia stiamo lavorando sodo perché, se Dio vuole, questo concorso non si fermi mai. Si lo vuole, si vuole, si vuole, è per sempre. Grazie a tutti.